In questo modo prese il calice del vino e le segnate, lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e bevetele tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E il Signore Gesù si offre per noi.